Buonasera a tutti benvenuti io mi chiamo Federica Antonacci lavoro alla scuola del libro e siamo veramente contenti questa sera di avere i nostri ospiti Annalisa Camilli e Fabio Geda per questo incontro per questa lezione aperta l'abbiamo chiamata scritture incendiarie è un modo per parlarvi di una cosa altrettanto bella che faremo con con Annalisa e con Fabio nel prossimo autunno e due corsi di scrittura molto diversi però accomunati secondo noi da da un più che da un tema da uno spirito perché che è quello diciamo del calore del fuoco perché sono due corsi quello di Fabio che si chiama raccontare l'adolescenza e quello di Annalisa che riguarda la scrittura di reportage per Annalisa sarà la seconda edizione perché la prima è in corso in questi giorni ed è veramente una bellissima esperienza insomma ne parlavamo ne parlavamo prima questi corsi mi sono scritta le date per non sbagliare e in realtà sono una staffetta perché il corso di Annalisa inizia all'inizio di di ottobre e sono sei lezioni e termina il 7 novembre quello di Fabio inizia il 7 novembre e sono invece quattro lezioni fino alla fine di novembre sono lezioni online perché insomma abbiamo un po' rivoluzionato i nostri modi di di tenere ovviamente per questi due anni un po' strani che abbiamo vissuto e siamo davvero contenti insomma di di averli nostri ospiti e di farci raccontare un po' di cose non solo dei corsi ma anche della loro esperienza nel insomma nel che li ha portati a ad essere nostri nostri docenti quindi lascio la parola a Marco che magari io mi sono Marco Cassini buonasera eh lavoro con Federica con Violetta con Francesca e Clarissa ecco che sono lì in fondo ehm la scuola del libro esiste da tantissimi anni io faccio l'editore o sono recidivo come dico sempre perché insomma ho fondato non una ma due case editrici quindi proprio un disastro prima una negli anni 90 che si chiama Minimum Fax poi un'altra Sur dove lavoro adesso ma ancora prima di fare questo già sentivo ci fosse necessità o anche voglia interesse di ehm trovare un posto che poi appunto adesso è diventato principalmente mh così non non fisico eh dove riunirsi dove persone possano riunirsi per eh per indagare le loro passioni eh quindi da una trentina d'anni circa il 92 è stato il primo corso di scrittura che ho organizzato e e da allora appunto abbiamo sempre ampliato sempre più la l'offerta didattica di questi corsi ehm perché appunto quello che che crediamo sia un po' la stessa idea che diceva Federica e che che abbiamo voluto mettere nel titolo di questo incontro eh che c'è appunto qualcosa che che ci arde dentro quando eh ci avviciniamo a a dei mestieri perché all'inizio eh sono solo passioni a volte diventano anche mestieri e come sappiamo insomma anche le professioni hanno bisogno di essere continuamente alimentati appunto come un fuoco eh anche dalla parte eh di di passione di di viscerale voglia di fare eh le cose e io mh credo che se appunto possiamo anche un po' arrampicarci sugli specchi per continuare a trovare degli elementi in comune di due tipi di di scrittura che forse non ne hanno così tante in comune all'apparenza come quella di di Fabio ma eravamo gli unici due disponibili stasera sì no certo certo bisognava trovare qualcosa infatti tra l'altro il titolo incendiario ha anche a che fare con il clima che stiamo vivendo in questi giorni perché tra un poco rischiamo l'autocombustione però effettivamente appunto ehm eh Fabio lo conosco da da più anni di quando non conosco Anna Lisa ma eh di entrambi seguo il lavoro eh da molti anni e quindi intanto per noi Scuola del Libro è una grande orgoglio averli eh adesso nel nello staff diciamo nel nel corpo docenti della scuola e io avevo promesso adesso che mi sembra di aver capito da un segno che mi arriva dalla regia che più o meno tutti quelli che si erano prenotati sono arrivati io ho sempre questo ruolo di intrattenitore fino a che non tutti hanno preso posto perché non devo dire granché proprio appunto avevo promesso ad Anna Lisa e a Fabio che avrei fatto soltanto due domande alla fine delle quali tra l'altro credo che io e Federica lasciamo proprio il palco solo a loro eh e quindi le faccio subito e che fossero anche abbastanza generiche perché così voi possiate affrontare eh il tema eh come volete come abbiamo detto anche vi abbiamo esonerato anche da dover fare voi la parte un po' promozionale di spot l'abbiamo fatto noi così voi non dovete macchiarvi eh di questa insomma di questo rischio autopromozionale ehm e però quello che mi piacerebbe eh che voi raccontaste nel modo in cui vi va eh appunto senza dover necessariamente parlare di come eh funzioneranno questi vostri corsi e eh le due domande su cui poi appunto eh vi lascio vi lascio vi lasciamo spazio di di raccontare ovviamente poi eh possiamo lasciare anche spazio per le domande eh del pubblico eh e sono appunto ehm vi trovate non solo da adesso ma già da parecchi anni a incontrare delle eh platee a volte vaste di un pubblico a volte un po' più ristrette ma non troppo di persone che vogliono apprendere da voi imparare un po' da voi eh del mestiere eh che fate ehm avete come abbiamo detto scritture diverse Annalisa si occupa di di giornalismo di inchiesta di reportage eh Fabio ha scritto narrativa ma ha scritto anche libri eh che che hanno necessitato molto studio molta eh documentazione a volte anche come se fosse un un reportage ma poi riproposto in forma eh narrativa ed entrambi avete un pubblico che si differenzia a seconda del eh del mezzo eh libro per ragazzi libro per adulti eh narrativa diciamo non so come dire dire per adulti è sempre un po' rischioso perché sembra ehm che stiamo parlando di altro ma insomma eh oppure insomma un'analisa eh lo ha fatto come giornalista in una eh agenzia di stampa poi in una delle più importanti delle più importanti testate italiane che è internazionale eh poi eh entrambi lavorate nell'organizzazione di festival insomma la 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 passione iniziale che è quella della scrittura si manifesta in forme molto diverse volevo sapere stringendo e appunto lasciandovi eh lo spazio eh da dove è nata l'esigenza prima di raccontarla e poi essendovi trovati spesso ripeto siete approdati alla scuola del libro solo di recente avendo insegnato eh spesso altrove eh se l'idea di trasmettere quindi di insegnare eh qualcosa e quindi appunto di appiccare questa fiammella perché si propagasse con altri eh è un'esigenza che avete sentito voi è una richiesta che vi è stata fatta e insomma poi magari in che modo questo incontro con chi viene ai vostri corsi alle vostre lezioni ritorna nel vostro lavoro nella vostra scrittura quindi una domanda che è abbastanza ampia perché possiate parlare anche ore o anche che vi possa permettere di dire quello che vi pare lasciando poi anche se vorremmo dello spazio al pubblico quindi grazie ancora per essere qui grazie al circolo dei lettori per averci ospitati e buona serata a tutti grazie 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 a te grazie Marta Annalisa inizi tu ti lascio io ho cominciato quest'anno a tenere dei corsi di reportage in realtà la spinta mi è venuta da un podcast che ho fatto quest'estate che si chiama Limoni e che inaspettatamente per me per chi l'aveva pensato cioè il mio direttore era proprio rivolto ai ragazzi, ai più giovani, alle generazioni più giovani in realtà io ero molto scettica all'inizio quando abbiamo cominciato a scrivere Limoni non pensavo che veramente sarebbe arrivato a un pubblico di più giovani invece mi sono dovuta ricredere e spesso diciamo l'aspetto appunto di essere smentita di essere smentito dalle cose che poi succedono appunto il fatto che la scrittura arrivi inaspettatamente a qualcuno per cui non era stata pensata io quando mi veniva chiesto prova a raccontare appunto quello che è successo a Genova vent'anni fa a chi all'epoca non era neppure nato e che magari oggi ha vent'anni come quegli anni che avevi tu all'epoca quando partecipassi appunto al G8 e quindi prova a incontrare queste generazioni a contattarle quando mi è stato chiesto esattamente questo la mia reazione è stata la mia scrittura racconta quello che è per me la scrittura è sempre stato un modo di rimettere un po' a posto le cose ridare spesso chiarirle, chiarificarmele la uso molto appunto come strumento di indagine e per questo appunto poi è diventata una parte importante del mio lavoro e quindi non ero sicuramente seguo da molti anni dei metodi di scrittura che la rendano comprensibile il farsi capire per me è una regola fondamentale per il lavoro che faccio tuttavia appunto non avevo per niente pensato che questa scrittura che quel podcast potesse arrivare ai più giovani mi sembrava anzi un approccio che proprio non condividevo quasi paternalistico, ti racconto quello che ho vissuto io che cosa è stata la passione politica e che cosa ne è successo dopo a quelli che avevano appunto quella passione politica e l'hanno vissuta in quegli anni in quella maniera in realtà sono stata smentita appunto perché quel podcast l'hanno sentito tantissimi ragazzini tantissimi ventenni tantissime persone che a Genova nel 2001 non erano neppure nate e tanti dopo mi sono venuti a cercare mi hanno cercato nei posti più strani di nuovo per la scrittura mi hanno cercato su Instagram, sui social network oppure nelle poche presentazioni che abbiamo fatto di Limoni e ho sentito proprio un grande bisogno che ci fossero degli spazi e in questo senso un po' il podcast ricreava un po' questa possibilità di intimità e di trasmissione tra le generazioni mi sembrava che questi ragazzi che venivano appunto alle presentazioni che mi scrivevano cercassero proprio un posto dove si potessero trasmettere queste storie e quindi tutti i sentimenti che dalle storie sempre sono suscitati e che non ci fossero dei posti per questa trasmissione che è appunto riflettuto molto sul fatto che la mia generazione in fondo ha avuto più possibilità di attraversare degli spazi intergenerazionali in cui appunto era più semplice per noi sentire le storie dalla viva voce dei protagonisti e quindi essere intercettati in qualche modo da questo racconto orale per esempio appunto sulla passione politica e questa cosa qui un po' mi ha acceso improvvisamente ho sentito che questa esigenza di rimettersi un po' intorno al fuoco appunto a raccontarsi storie tra generazioni diverse era un po' un miracolo che è un po' il miracolo del raccontare storie in fondo e quindi ci ho preso un po' gusto diciamo la verità rispetto a questa cosa e ho cominciato quasi per gioco appunto con degli amici che mi hanno proposto inizialmente di fare un corso di reportage e poi appunto con Marco ci siamo incontrati e anche lui mi ha proposto di cominciare a fare questo corso di reportage per la scuola del libro ho cominciato a mettermi in gioco e anche per me è stata proprio un'occasione di riflettere sul mio lavoro cioè un lavoro che faccio da tanti anni da 15-20 anni purtroppo e lo faccio diciamo spesso avendo sviluppato delle tecniche avendole imparate dagli altri dai più grandi dentro le redazioni abbastanza inconsapevolmente io dico sempre che una delle cose più belle più forti del lavoro che faccio è che è impossibile farlo diciamo senza la mediazione appunto degli esseri umani e che è un lavoro che continuamente continua ad imparare dagli altri dai più giovani ed è più vecchi da chi fa questo lavoro da più anni di meno e che è un lavoro che in fondo non si può fare da soli ma questo vale per tutte le scritture credo io in fondo dentro la parola dentro lo scrivere c'è sempre una moltitudine di persone che abbiamo incontrato di persone che ci hanno raccontato storie quindi dentro le scuole un po' si ricrea questa magia questa possibilità da una parte di aprire la propria cassetta degli attrezzi quindi di riflettere sul proprio lavoro chiarire prima di tutto a se stessi perché si fanno certe scelte narrative perché si scelgono certe persone come chiavi di ingresso nelle storie più grandi perché si racconta una certa storia in quella maniera lì e per altro verso incontrare generazioni diverse e questo quindi confrontarsi con visioni del mondo che spesso non si intercettano diciamo purtroppo appunto i luoghi di scambio intergenerazionale sono sempre di meno e invece c'è una grandissima risorsa anche per dare in qualche modo per alimentare il nostro lavoro quindi i ragazzi con cui poi faccio questi corsi con cui sto facendo questi corsi o le persone più grandi perché poi molte persone sono più avanti nell'età insomma ma mi restituiscono uno sguardo nuovo sulle cose che faccio da tanti anni e quindi mi costringono in qualche modo anche a riscoprire dei modelli quindi a cercare quelli che sono stati i miei autori i miei giornalisti di riferimento o i miei scrittori di riferimento che appunto hanno un po' illuminato la strada davanti a me e quindi questo direi sono le due grandi i due grandi fuochi insomma intorno ai quali ha senso per me appunto mettermi in gioco dopo diversi anni e appunto passare un po' dall'altra parte dell'altra parte dall'altra parte intanto hai detto una cosa che già mi ha acceso una lampadina importante a cui non avevo pensato cioè il fatto che quando poi insegni è anche un buon modo per fare ordine dentro di te no? tu hai fatto tutto un percorso lungo e a un certo punto dici vabbè ok vediamo se mettendomi a tavolino riesco davvero a capire io stesso o io stessa cosa ho imparato da questo mio percorso e questo può essere sicuramente un buon stimolo a fare un corso di questo tipo cioè provare a tramandare quello che uno ha fatto sedimentare no? la sintesi di un percorso io non insegno da sette anni e sette anni fa feci un corso di due weekend quindi non è che abbia proprio una grande esperienza mentre invece dodici anni fa per un anno feci da assistente a Marcello Fois alla scuola Holden quando era ancora in corso Dante perché lui era uno dei maestri di racconto e romanzo alla scuola Holden e io per un anno gli feci da assistente e furono entrambe due esperienze molto belle che mi fecero anche pensare che potevo anche serenamente smettere di fare quella cosa lì nel senso che non ero in grado ancora non ero in grado ancora di fare esattamente quel lavoro cioè di guardare il mio percorso di mettere ordine e di trasmetterlo erano ancora dentro di me molto più i dubbi che non invece in qualche modo molto più le domande che non le risposte e non è che uno facendo un corso debba per forza fornire risposte o soltanto risposte secondo me è anche molto interessante durante un corso fornire domande e rendere più complesse le domande fare domande più complesse però è anche vero che poi una qualche mappa per muoverti in quel territorio che tu stai raccontando devi anche fornirla perché se no voglio dire che viene a fare ad ascoltarmi se poi ne esci tu allievo con più dubbi di prima quindi mi sono stupito anch'io quando Marco mi ha chiesto di fare questo corso e io abbastanza rapidamente tra l'altro non ti ho lasciato appeso all'amo molto a lungo mi sembra e gli ho detto sì e voglio fare un corso su come raccontare l'adolescenza perché mi sembra che sia al netto e gli altri due corsi che avevo fatto erano quelli più classici scrivere un romanzo scrivere un racconto avete presente no che è proprio come dire come parlare di di sesso degli angeli praticamente quindi è assolutamente impossibile dire più di due cose che abbiano vagamente senso mentre invece raccontare l'adolescenza è credo il singolo argomento su cui io mi sono più interrogato negli ultimi 15 anni perché mi sono reso conto che se c'è un filo rosso io pubblico da 15 anni esatti il mio primo romanzo è uscito nel 2007 e già parlava di un ragazzino adolescente pre-adolescente aveva 12 anni che viaggiava per l'Europa in cerca di suo nonno e io la pre-adolescenza e l'adolescenza è la singola cosa come raccontare la pre-adolescenza e l'adolescenza è la singola cosa su cui mi sono oggettivamente più interrogato in questi 15 anni e quindi mi son detto effettivamente forse io adesso qualcosa mi sembra di aver capito di questa roba qua no? che non ha nulla poi a che fare col valore di ciò che io scrivo no niente ma di come si fa questo cioè mi sono fatto per 15 anni delle domande e mi sono anche dato delle risposte ogni tanto e quindi perché non provare a condividere queste queste risposte per esempio domande ti sei fatta? per esempio sicuramente cosa vuol dire chiederti se stai scrivendo per adolescenti o parlando di adolescenza ad esempio che è una grande domanda da farsi perché scrivere per adolescenti non ti non ti rende immediatamente in grado di parlare di adolescenza a parte che scrivere per adolescenti non vuol neanche dire parlare di adolescenza nel senso che come dire molto spesso io in adolescente io da adolescente ho amato libri che non parlavano di adolescenza per cui uno può anche scrivere per adolescenti e parlare di mille altre cose che non sono l'adolescenza io invece sono interessato a parlare di adolescenza che poi quello che scrivo arrivi anche agli adolescenti è un altro tipo di di passaggio e di percorso e perché sono interessato a parlare di adolescenza perché non è solo ciò su cui mi sono interrogato di più negli ultimi 15 anni è ciò su cui l'adolescenza non come raccontarla l'adolescenza è ciò su cui mi sono interrogato di più negli ultimi 25 anni perché il mio percorso parte esattamente facevo il conto adesso esattamente 25 anni fa 1997 e io credo di essere qui oggi a parlarvi di questo perché in un pomeriggio di settembre del 97 in un cortile di un oratorio di periferia due ragazzi di 15 anni mi hanno regalato un cappello da baseball questo è esattamente credo il punto di partenza che mi ha portato a essere qui oggi perché io avevo appena finito l'anno di obiezione di coscienza erano gli ultimi anni del servizio militare obbligatorio avevo scelto di fare obiezione di coscienza ed ero finito a fare l'educatore in un oratorio di periferia e c'erano rimasto dieci mesi quindi dieci mesi in cortile proprio dieci mesi caldo freddo tutti i giorni a fare attività con i ragazzi andare a pescarli in giro per il quartiere lavorare con le famiglie in contatto con i servizi sociali con la parrocchia vi dicendo e c'erano questi due che erano proprio due cagacazzo incredibili mi avevano rotto i coglioni per tutti i dieci mesi in un modo straordinario ma per qualche motivo si era creata si era creata un contatto che come dire che si era dimostrato fertile pur essendo giocato quasi costantemente sulla conflittualità cioè il nostro era un costante conflitto ma quel conflitto nascondeva una relazione che poi mi sono reso conto col tempo era per loro fondamentale perché arrivavano da contesti familiari in cui neanche il conflitto permetteva loro di avere relazioni importanti con gli adulti di riferimento mentre io ero un adulto di riferimento o lo ero diventato che anche se attraverso il conflitto comunque li guardava e li riconosceva e non c'è niente che faccia innamorare di un adulto un adolescente più che il fatto che lui si accorga che tu lo stai guardando e lo stai riconoscendo e l'ultimo giorno di servizio civile loro mi hanno regalato un cappello da baseball che era anche ovviamente una pesa per il culo perché io ero già così a 25 anni e quindi loro mi hanno preso per il culo tutto l'anno ovviamente perché ero pelato e l'ultimo giorno mi hanno regalato un cappello da baseball e io e credo che sia stato uno dei singoli gesti d'affetto più commoventi che io abbia mai ricevuto nella mia vita e io sono uscito quel giorno mi stavo laureando in scienze della comunicazione con una tesi in marketing e ho pensato ma a me non me ne frega niente di fare ciò per cui mi sto laureando scintilla fuoco no incendio quel cappello da baseball ha innescato l'incendio dentro dentro di me e io ho capito che io avrei voluto occuparmi di quei ragazzi lì per il resto della mia vita e non avevo assolutamente idea di come farlo e mi stavo laureando e neanche a farla apposta un istante dopo perché quando il mondo complotta alle tue spalle lo fa bene una mia amica mi dice che sta partendo per il Brasile perché ha conosciuto un prete missionario un francescano che lavora in una favela di Salvador de Bahia sarebbe andata lì sei mesi e io senza neanche chiedermi dove stavo andando così le ho detto vengo anch'io perché era per me impossibile a quel punto con quell'incendio che si era scatenato dentro di me restare a Torino a Palazzo Nuovo a finire la tesi sul marketing delle aree protette ho fatto una tesi sul marketing delle aree protette e quindi sono partito sono stato con lei sei mesi in Brasile e in Brasile ho conosciuto questa associazione che si chiama Progetto Asche che lavora con i Meninos con i ragazzini con i ragazzini di strada sulla spiaggia e li chiama in qualche modo attraverso la capoeira attraverso le percussioni e poi hanno una scuola professionale quindi poi ovviamente li portano a scuola cercano di portarli a scuola per insegnare loro un mestiere e quei sei mesi mi hanno fatto capire che io quella roba lì in qualche modo volevo continuare a farla per il resto della mia vita sono tornato mi sono laureato perché a quel punto era un po' scemo non laurearsi ma un istante dopo io stavo lavorando come educatore a San Salvario che già in quegli anni era uno dei quartieri storici dell'immigrazione torinese era il 97 dopo la seconda grande immigrazione dall'Albania eravamo la città piena di ragazzini albanesi che dormivano sotto i portici e con con tre amici abbiamo aperto abbiamo affittato lo studio di un veterinario e abbiamo aperto una comunità di bassa soglia quindi accoglievamo questi adolescenti albanesi che il comune ci mandava la sera gli facevamo fare la doccia mangiavamo insieme e poi la mattina via fuori ognuno a fare le cose sue e questo percorso no mi ha mi ha poi portato a lavorare per dieci anni come educatore in comunità alloggio non con minori stranieri con minori italiani ma di fatto erano la maggior parte di loro erano adolescenti e lì ho scoperto che il mestiere delle educatorie è un mestiere estremamente narrativo perché tu lavori con le storie dei tuoi ragazzi e quello che ti viene richiesto tra l'altro è di prendere in consegna quelle storie pulirle no lucidarle metterle in ordine ricucirle e poi ripresentarle riraccontarle in modo che loro possano guardarle dall'esterno comprenderle e farci pace a quel punto io che ho sempre amato scrivere ho cominciato a scrivere a liceo ma non avevo mai osato davvero scrivere qualcosa no di grosso e ho provato a scrivere un romanzo che parlava di questi ragazzi qua e incredibilmente è successo per il resto del viaggio ho sparato gli indiani che è il mio primo romanzo pubblicato da questa piccolissima casa editrice torinese gloriosa la Instar Libri che purtroppo non c'è più è stato come dire ha dato il via ad un'altra parte del percorso che poi è quella che Rotolando mi ha portato qui oggi di fatto per cui si parte da un cappellino da baseball regalato in un pomeriggio di settembre in un oratorio di periferia e si arriva ad un incendio che mi ha fatto riconoscere una vocazione che mi ha fatto cambiare lavoro e che me l'ha fatto cambiare poi una seconda volta perché alla fin fine anche scrivendo appunto mi rendo conto che il singolo elemento più raccontato nella maggior parte dei miei libri alla fin fine è cosa vuol dire avere 13 14 15 16 17 18 anni questo è quello che è successo e quindi mi piace provare grazie all'occasione avuta dalla scuola del libro a mettere un po' ordine in tutto questi 25 anni di percorso e a trasmettere quello che mi sembra di aver capito sì mentre parlavi mi veniva in mente che invece per me è come se dovessi cioè in queste lezioni che faccio mi rendo conto di quanto il tentativo e quindi nella riflessione che faccio sul tipo di scrittura che ho su come ci sono arrivata è un tentativo sempre di tenere insieme almeno due cose cioè il giornalismo e la scrittura il giornalismo e la narrativa e il giornalismo è la parte in realtà più inedita per chi si scrive ai corsi di scrittura o persino ai corsi di giornalismo e in sostanza il lavoro che faccio è quello che poi faccio continuamente nella mia vita cioè fare esperienza no? è come se spesso anche chi desidera molto scrivere o fare un viaggio attraverso la scrittura degli altri tuttavia manca di spesso diciamo l'esperienza che ha della scrittura degli altri è sempre mediata no? mentre attraverso il giornalismo c'è la necessità io quello che dico sempre il reportage è comunque un viaggio e necessita un'esperienza anche fisica sensoriale nella realtà e quindi sto scoprendo scopro che questo elemento qui del giornalismo fatto andando nei posti attraversando la realtà e quindi poi riportando quella realtà nella propria scrittura no? è un'esperienza in realtà molto poco frequentata molto poco sempre meno fatta diciamo perfino dai giornalisti quindi questo elemento di inserire l'esperienza della realtà nei nostri discorsi diventa quasi una cosa pionieristica incredibilmente perché poi di giornalismo narrativo di giornalismo letterario si è parlato moltissimo in questi anni forse anche molto a sproposito e invece c'è proprio una necessità grande di di riscoperta della parte soprattutto giornalistica no? appunto i ragazzi insomma le persone che frequentano questi corsi dicevo non necessariamente giovani e giovanissimi mi rendo conto che sono sempre meno abituati a fare esperienza e quindi poi a raccontare un'esperienza reale che hanno fatto cioè a partire dalla realtà per raccontare storie e questa è in effetti invece l'expertise o l'esperienza appunto che io posso che io posso trasmettere in realtà per me ha una radice profondissima nel senso che mi rendo conto io vengo da studi di filosofia e quindi vengo da tutt'altro percorso però mi rendo conto che per me la scrittura come dicevo ha sempre avuto questo valore profondo di indagine cioè l'ho sempre usata la scrittura e la lettura quindi l'ascolto delle scritture degli altri l'ho sempre usata molto come possibilità di esplorazione della realtà e del mondo e quindi mi è sempre sembrato in fondo è questo anche il motivo per cui ho fatto la giornalista cioè in fondo mi è sembrato sempre uno strumento per scoprire la realtà e a volte anche non riuscirci fino in fondo per renderla più chiara per ordinarla per controllarla qualche volta o per sospenderla nel senso per chiedermi fin dove arriva la possibilità di comprensione della realtà vengo da studi di filosofia e il filosofo diciamo che mi ha più ispirato è Immanuel Kant che proprio in tutta la sua produzione cerca di tenere insieme teoria e esempio e cerca in quello che fa quel miracolo dell'esempio cioè di una storia che oggi diremmo iconica nel giornalismo cioè di una storia molto particolare molto irripetibile unica che però tenga insieme alcuni elementi di universalismo di universali e in fondo mi rendo conto poi nel mio lavoro di giornalista ho fatto sempre questo ed è questo che cerco faticosamente devo dire a volte di 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 trasmettere e cioè questa capacità di riconoscere nell'assolutamente unico l'universale no? e cercare appunto questo miracolo che a volte raramente diciamo avviene di essere molto capaci di raccontare l'individuo che abbiamo di fronte l'esperienza unica la storia unica della persona che abbiamo di fronte nella sua tragica unicità e allo stesso tempo però emozionarci no? riconoscerci in quella storia e questo appunto esercizio che ho fatto nel corso di questi anni cioè attraversare la realtà non risparmiarmi diciamo così e inserire più elementi possibili di realtà cercando in questa realtà appunto mi impressiona perché le persone che incontro in fondo rispecchiando un po' una tendenza generale parlano molto di sé no? hanno molta pensano che scrivere sia fare un esercizio di autobiografia o di o di memoria o di di scavo anche no? c'è questo chiaramente ed è una tendenza che vediamo anche nella letteratura più alta appunto questo invece c'è poco l'abitudine di usare la scrittura come esperienza di uscita da sé no? di incontro vero con l'altro e con la realtà anche nella sua durezza no? per me appunto in questi anni ho attraversato appunto posti abbastanza incredibili no? e mi rendo conto che il fatto di averli attraversati e poi di doverli raccontare un po' come entrare nella caverna nella caverna nel mito platonico e poi dover tornare a casa e raccontare attraverso uno strumento condiviso che sono le parole che sono che è la scrittura quello che ho visto mi ha aiutato diciamo così ad affinare esattamente questa questa capacità diciamo così e quindi è questo che poi alla fine cerco di suscitare anche negli altri non tanto un desiderio di dire di sé o di raccontare i propri percorsi per quanto traumatici quanto quello invece di osservare la realtà e quindi di farsi sorprendere anche dalla realtà e mi rendo conto che è sempre più complicato perché di nuovo sempre di meno siamo abituati ad ascoltare e a guardare quindi in fondo poi mi rendo conto che questi questi corsi di scrittura sono corsi di lettura lo dicevo prima di altri oppure corsi di osservazione in fondo insieme impariamo a guardare no? e ad ascoltarci per esempio facciamo delle delle lunghe sedute appunto di come si tiene un'intervista che non è proprio una seduta psicoanalitica però insomma spesso si si serve degli strumenti anche della psicoanalisi per mettere l'altro nelle condizioni appunto di regalarci un pezzetto della sua vita un pezzetto della sua storia e e trovo che sia questo cioè questo sia un po' il cuore no? cioè da una parte una relazione sempre più difficile con la realtà con una realtà condivisa e anche con la durezza della realtà che spesso appunto ci respinge anche spesso non la comprendiamo fino in fondo non è trasparente come vorremmo spesso è più violenta diciamo di quello che ci aspettiamo è più un ostacolo che altro insomma no? e dall'altra parte questa relazione con l'altro con gli altri perfino appunto quando sono molto molto lontani no? molto incomprensibili cercare cercare appunto il più possibile invece di mettere da una parte l'osservazione lo sguardo e dall'altra appunto la relazione al centro appunto della scrittura e però come dicevo spesso mi trovo nel paradosso per cui in realtà non è tanto un corso di scrittura quanto un corso di lettura di ascolto e di osservazione lo stavo pensando rispetto a quello che stavi dicendo è che effettivamente uno se ne accorge che in giro è molto normale che molte persone sperimentino la scrittura come una pratica terapeutica no? cioè devo vuol dire mi curo attraverso la scrittura e che fra l'altro lo dico subito non è una cosa che io penso sia sbagliata assolutamente anzi voi lo sapete che nel barometro europeo se andate a vedere no il barometro europeo nelle arti nella cultura eccetera noi siamo agli ultimi posti non solo come lettori ma anche come scrittori si dice che in Italia nessuno legga perché tutti scrivono ma non è vero tutti vogliono pubblicare cioè tutti quelli che scrivono vogliono pubblicare che è un'altra faccenda che ha a che fare con il narcisismo del nostro popolo ok? o con l'industria editoriale non lo so però l'idea è che se io scrivo qualcosa poi devo pubblicarla no? un po' come se chiunque amasse cucinare in casa poi volesse aprire un ristorante o chiunque imparasse a suonare uno strumento poi volesse fare musicista e fare un concerto no? alla Carnegie Hall invece c'è un livello di uso della scrittura che soprattutto nei paesi scandinavi o comunque a nord d'Europa è molto più utilizzata che è una scrittura intima che è una scrittura fatta per mettere ordine semplicemente no? per fermare dei concetti su carta provare a fotografarli anche perché non c'è nessuna storia difficile da raccontare come la nostra storia personale a noi stessi e finché noi ce la ripetiamo nella testa siamo capacissimi di mentirci all'infinito noi siamo abilissimi a mentire a noi stessi se uno prova a scriversi invece è più difficile mentire o perlomeno se menti te ne accorgi e lì sono cazzi tuoi cioè nel senso devi accettare che stai mentendo oppure provare a andare oltre alla menzogna e quindi cancellare e scrivere la verità e questo è molto interessante e stavo pensando che invece il reportage è esattamente il contrario perché il reportage non lo so però cioè prevede un totale cioè tu devi diventare trasparente devi diventare come una specie di vetro antiproiettile che protegge la verità degli altri e per noi autori essere trasparenti è super difficile super difficile noi abbiamo quasi tutti degli ego abbastanza ingombranti poi voglio dire no c'è chi li ha più ingombranti ognuno può pensare chi vuole e chi li ha meno ingombranti però abbiamo tutti comunque c'è entriamo nelle nostre storie spesso con i gomiti un po' alti mentre invece il reporter deve entrare nelle storie degli altri quasi come l'uomo invisibile e questo è c'è questo esercizio che appunto c'è la tecnica giornalistica anglosassone prevede che il reporter sparisca non è sempre così è come tutte le regole può essere infranta però come dico appunto chi frequenta il corso deve ci devono essere delle buone ragioni per infrangere questa regola e per mettersi in scena deve essere davvero interessante la cosa che vuoi raccontare di te in relazione all'oggetto della tua osservazione è come tutte le tecniche un diciamo una convenzione evidentemente lo sguardo per l'appunto la scelta di chi facciamo parlare di che cosa rappresentiamo è lì che si esprime diciamo così l'autorialità del reporter è una finzione che tuttavia aiuta moltissimo a fare un passo indietro e appunto a incontrare un pochino di più questa realtà che secondo me è abbastanza scomparsa anche dalla letteratura c'è una grande paura una grande ansia di incontrare appunto la realtà in quanto quasi un ostacolo al proprio seno e l'altro ancora di più come ostacolo come c'è un grande desiderio di controllarlo l'altro e quindi appunto la scrittura diventa soprattutto esercizio di controllo mentre il giornalismo tradizionale di stampa anglosassone ci aiuta diciamo così a provare a mettersi invece in ascolto e quindi a far vincere la relazione a far vincere l'osservazione appunto e però per questo c'è bisogno di tempo di lentezza di uscire da sé di fare un viaggio nella realtà di mettersi in discussione di ripulire di dare per scontato che la nostra scrittura sarà piena di luoghi comuni di stereotipi e che però appunto siamo pronti a lasciarli indietro insomma a metterli in discussione a farsi appunto contattare dalla realtà e dall'altro è un esercizio difficilissimo ripeto tanto più nei tempi in cui viviamo mi rendo conto che faccio anche fatica a volte a spiegare che cos'è no la realtà anche semplicemente come intersoggettività e cioè ovviamente ci sono delle regole delle scienze sociali che bisogna rispettare perché un'affermazione possa essere sostenuta giornalisticamente quindi intervistare molte persone che siano in quella condizione di sfruttamento per dire che in quella fabbrica o in quell'azienda c'è una condizione di sfruttamento del lavoro stare per ore se voglio fare un ritratto di qualcuno e voglio quindi in qualche modo capire di che pasta è fatta l'altra persona quali sono le contraddizioni non cercare il buono e il cattivo della storia in un mondo estremamente polarizzato in cui invece siamo abituati diciamo a rappresentare l'altro con delle tinte molto forti appunto il buono e cattivo o sta con me o sta contro di me tra l'altro appunto i processi in cui siamo passati in questi due anni la pandemia la guerra hanno addirittura radicalizzato questa tendenza no a semplificare e invece appunto allenare l'occhio alle contraddizioni alla contraddizione che ciascuno di noi è alla moltitudine appunto che ciascuno di noi è e quindi che l'altro è no però senza questo allenamento quasi rischiamo di non vederla più questa realtà di chiuderci sempre di più in delle bolle appunto che ci confermano e usare quindi perfino la scrittura come un muro è come qualcosa di rassicurante quindi che ci dice soltanto quello che già sappiamo e quindi che però non è più interessante né per chi scrive né per chi legge dico solo una cosa velocissima poi se vogliamo lasciamo spazio a domande mi veniva in mente che una delle cose che unisce le nostre scritture perché forse adesso davvero una vera e non e non fuffosa come quelle di prima mi è venuta in mente è che il concetto di stare cioè stare dentro nel senso che il reportage prevede che tu stia dentro la realtà che devi raccontare la fabbrica dove avviene una qualche forma di sfruttamento tu devi stare dentro quella fabbrica ed entrare nelle vite di quelle persone se vuoi fare l'educatore e se vuoi capire davvero che cos'è un adolescente dico che cos'è potrebbe potrebbe anche dire chi è ovviamente ma alle volte assomigliano a delle cose più che a delle persone se vuoi fare l'educatore devi stare dentro la relazione e non c'è niente di più difficile che stare dentro la relazione con gli altri una delle cose che fa sì che per molti sia molto difficile essere dei buoni educatori e intendo dire dei buoni professori dei buoni genitori e che per un adulto normalmente è difficile stare dentro la relazione con un bambino o con un ragazzino o con un adolescente uno tende a scappare a fuggire e quindi saper stare dentro le dimensioni che vuoi raccontare è davvero una cosa che accomuna il nostro lavoro io credo poi la dimensione scusami volevo aggiungere questo proprio la dimensione fisica faccio fatica a volte a trasmettere quanto sia fondamentale appunto non solo osservare e quindi poi nella scrittura riportare il cambiamento di quello che si è osservato appunto lasciare manifestare la realtà dargli il tempo anche di manifestarsi ma poi raccontarla anche come un'esperienza fisica quindi trasmetterla nel reportage fisicamente le sensazioni io dico sempre dovete portare un po' i vostri lettori nel posto dove state farli sentire quello che voi state sentendo e quindi in qualche modo vi dovete osservare sempre come se foste fuori dalla scena diciamo così e anche questa è un'esperienza complicata perché di nuovo la fisicità il corpo è abbastanza uscito dai nostri discorsi anche di nuovo per le vicende che abbiamo attraversato la pandemia ha sicuramente allontanato l'esperienza fisica il corpo la relazione anche fisica e quindi il limite anche dell'esperienza fisica dal nostro racconto a a a Grazie a tutti